Giornata di lutto domani in Calabria, in segno di cordoio e solidarietà con le vittime del naufragio a steccato di Cutro dell'imbarcazione, carica di migranti. A proclamarle è stato il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, interpretando il dolore e la profonda commozione dell'intera regione, si legge in una nota, suscitata dagli esiti tragici del naufragio avvenuto nella giornata del 26 febbraio, davanti alle coste calabresi, che ha causato la drammatica morte di numerosi migranti. Dato atto che l'amministrazione regionale intende manifestare in modo solenne il proprio cordoio e la propria vicinanza per le vite umane spezzate, ha deciso di proclamare, in segno di cordoio e solidarietà, il lutto su tutto il territorio regionale nella giornata del 28 febbraio. Si rispone pertanto, è detto ancora nella nota, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sugli edifici pubblici della regione e si invitano gli enti pubblici del territorio ad associarsi alla manifestazione di cordoio.